200 milioni di euro è l'importo del contratto istituzionale di sviluppo che ho voluto fortemente in questa legislatura e che abbiamo ottenuto. Cos'è il contratto istituzionale di sviluppo? E' un contratto tra il Governo nazionale e i comuni della provincia di Brindisi e di Lecce che si affacciano sul mare Adriatico. Un contratto che porta 200 milioni di euro di interventi che si realizzeranno presto su tutta questa fascia costiera che praticamente va da Fasano a Santa Maria di Leuca. Pensate, tutti i comuni che si affacciano sull'Adriatico da Fasano a Santa Maria di Leuca hanno ottenuto un finanziamento, un impegno importante che mi mette nelle condizioni di rispondere alla domanda che spesso mi viene rivolta, ma cosa ha fatto Dattis in questa legislatura? Ci sono tante altre cose che racconterò, ma questa la racconto con particolare orgoglio. Bene, 200 milioni di euro e non ci fermiamo qui perché il contratto istituzionale di sviluppo significa cominciare a finanziare quest'area. Quest'area potrà essere ancora finanziata semplicemente aggiungendo delle risorse perché il contratto è stato firmato. Per essere concreti noi presentiamo in questa campagna elettorale non solo quello che vogliamo fare ma come in questo caso quello che abbiamo già fatto.